Ha guadagnato davvero tanta e tanta stima e gratitudine da parte di tanti preti e religiosi laici e laiche che si sono sentiti aiutati nel loro cammino di fede. Si è spento questa mattina alle 8 Monsignor Massimo Eliseo Ruffini, figura di spicco della diocesi lariana. Nato a Dardeno, in provincia di Sondrio, il 9 novembre 1924, nel 1947 Ruffini è stato ordinato a sacerdote e nello stesso anno è diventato vicario presso la parrocchia del Santissimo Redentore di Cernobbio. Vice-rettore del seminario diocesano di Como dal 1954 al 1958, Monsignor Ruffini ha ricoperto anche il ruolo di vicario episcopale per la provincia di Sondrio tra il 1985 e il 1991. Successivamente, dal 91 al 99, è stato vicario generale della diocesi di Como. Appassionato studioso e profondo teologo inoltre, dal 1955 al 2005 è stato docente di teologia dogmatica presso il seminario diocesano. Per motivi di salute, da qualche anno si era trasferito a Como, in via Tommaso Grossi, presso l'Istituto Santa Croce, dove si è spento. La camera ardente è stata allestita nella chiesa di San Giacomo. In visita questa mattina alle 12 anche il Vescovo di Como, Monsignor Diego Coletti, per la benedizione della salma. Quest'uomo ha servito la chiesa in uno dei punti più delicati del ministero sacerdotale, che è nella riflessione teologica. Dobbiamo davvero ringraziare i signori di avercelo dato e di avercelo conservato per tutti questi anni. La camera ardente sarà aperta anche domani dalle 8 alle 20 e 30. Sempre domani alle 11 e 30 in San Giacomo il Vescovo Coletti presiderà la preghiera di suffragio, mentre alle 20 ci sarà la recita del rosario. I funerali saranno lunedì alle 10 nel Duomo di Como. Alle 15 e 30 si svolgeranno le esequie anche ad Ardenno, sua casa natale. La salma sarà poi tumulata nel cimitero del paese. Grazie a tutti.